Questo è il tavolo, questa è la cucina, sono il tavolo bellino. Io e Maurizio si mangia alla grande con tutte le donne. Ma vabbè Graziano ancora con quell'affare? Ancora con il mio babbo? Ancora con il mio babbo? Ancora con il mio babbo tanto e tanto, ma ancora con quell'affare, quello affare è il mio amico. Rispetto per l'affare che tra l'altro è il mio babbo. Volevo dire, volevo fare a Maurizio tutti questi mangiarini che gli farò, gli farò questi mangiarini importanti cinese, perché lui è il mio babbo, cinese, e siete amici. Ma che l'ho detto io? L'ho detto io. Ma tutte le volte è colpa... Vabbè, non gli faccio, gli faccio gli involtini normali. Ma gli involtini sono cinesi. Quelli qui, Mavera, le rifò d'ottobre e non sono più cinesi. E gli involtini l'hai nel cervello, e te lo dico io. Levo, me li levo, li fa mangiare a Maurizio. Allora, guardate la praticità di questa cucina. Intanto questo tavolo, così, pieno di donne, io e lui, un pieno di donne, con tutte le donne qui intorno. Come il pare ci sembra molto spazio. Con tre donne, con due donne siamo già. Scusate se mi fosse aiutare, avrei una soluzione. Ah sì. È arrivato a Solution Man. Guardate. No, vabbè, una soluzione. Da nulla. Una magia, sape. L'ondino a garanzia. No, ma davanti donne, quante donne ci metti? Contate, contate. Beh, una, due, tre, quattro, cinque, sei, se sono si stringa, un'arm, un'arm, un'arm. The lounge table, the lounge, the lounge table, the lounge table, the lounge table. L'hound table è uno dei tavoli più longi che esistono. In più, volevo fare, faccio vedere la cucina. Mi lascia le vostre discussioni. Sì, che sono importanti perché, Maurizio, volevo spiegare. Allora, qui poi, oltretutto, abbiamo, per esempio, questo muovilino qua, voglio farvelo vedere. Guardate, sembra una cosa normale, il pulimento, proprio così, però io se l'apro, qui ci sono tutte le bottiglie, le levo e mentre uno mangia, che non c'è anche oggi, fa, arrivo! E gli fai anche paura, che è bellissimo, che uno non se l'aspetta. Sì, lo puoi lasciare, che c'ha le mani piene e lui da solo, così, con una sorta di ABS. La sorpresa è meglio. E in più, poi, qui abbiamo, questo qui, no, se uno lo ha, c'ha le mani piene, lo lascia andare, vedi, come va piano e non batte neanche. Perché? Perché c'è una sorta di ABS con dei gommini sotto, che io ogni tanto cambio per non far rumore. Quindi, la friggitrice, il forno a microonde, il piano di cottura e l'induzione, qua ci metto il gas, così, quando mi pare, cambio il filtro all'olio, il gas, la batteria. Cosa c'entra? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Cambi l'olio, facenti, cambi, ma è tutto in forma, una fettina di prosciutto mi toccherà, capito? E quindi si mangia così, alla grande, senza problemi, su questo table. E quindi, il cambio, acqua, filtro dell'acqua, olio, gas, benzina, metano, gpr, cambio tutti i filtri, poi c'è un c'è il libido, libido, c'è il libido, la nette è bella. Anche per me, non c'è, guarda. Farlo come, testa cittina, io apro, mi cambio i filtri e vado a giro tranquillamente. Lui c'è una soluzione a te. Sarò amico del Londi, il Londi c'è una soluzione per tutti, io sono il suo amico e mi soluziono per conto mio. Su questa ragione, su questa ragione, questa volta te la passiamo. Hai ragione, è casa bella. Per quanto riguarda il divano, io sceglierei quello reclinabile. La cucina sicuramente non quella che ha scelto lui e per la camera dal letto invece è l'ultima che abbiamo visto. Per il pagamento come facciamo? Per il pagamento c'è un acconto alla commissione e poi il saldo alla consegna. Perfetto, io... Ah, ma scusa però se mi interrompo, ma avevo letto che c'era... Corretto, perché per il mese di giugno c'è una promozione. Con l'acquisto di una camera dal letto completa viene omaggiato il materasso. Ah, fantastico. Beh, cosa vuoi dire? Ma per esempio, se uno avesse un problemino, cioè come... Se avesse... Sì, avrei una soluzione. Ecco, lo metti. Pagamenti raterali in piccole ratera. Pagamenti raterali in piccole ratera, vedi? Che a volte uno dice, allora lo sai che fai io, per dispetto faccio bene, no? Io pago a ratera. Quanto si può fare di ratera? Fino a 60 mesi. Perché se te lo fai a 24 mesi o a 12, non c'è gusto. No, ma poi il mobile lo tieni peggio, tanto tra un po' lo cambio, invece a 60 lo pulisci. Ma poi l'hai già dati lei. Sì, poi ci statti affezionando, signora il mobile non lo cambi più. C'è sempre una soluzione, non dite. Non dite. È una soluzione. Un bel lavoro, eh? Hai fatto un bel lavoro. Guarda. Hai capito, perché sono buoni tutti a pagare il contatto. Sì, no, ma poi guarda, io ho avuto la sensazione che se glieli davi subito che ci rimanessero male. Ma lo sai, mi sembra anche a me, è quasi, quasi, dice, mi pagherai anche questo subito. Allora io non faccio rimanere male, ho detto, e poi anche quelle lunghe, 60 mesi, ma no. Sei un signore. Sì, lo so. E te lo devo dire, sei proprio un signore. Sì, lo so, sono un signore, sono a lui. Sì, lo so, sono un signore.